Nella sala consigliare Sandro Spagnoli del palazzo dell'emiciclo all'Aquila hanno preso il via i lavori dell'assemblea annuale del CRAM. Il presidente del consiglio regionale Giuseppe Di Pangrazio ha portato il saluto dell'assemblea legislativa abruzzese. Gli abruzzesi nel mondo, sottolineato Di Pangrazio, raccontano le nostre bellezze, la nostra storia e le nostre tradizioni, testimoniando anche i momenti più difficili come quello del 2009. In quell'occasione abbiamo assistito la grande prova di solidarietà dei nostri concittadini che vivono in ogni angolo della terra e che hanno mostrato quei principi di vicinanza e fratellanza tipici del DNA abruzzese. L'emiciclo è la casa di tutti gli abruzzesi, ha sottolineato Di Pangrazio, e vuole essere un punto di riferimento per tutti, soprattutto per coloro che vivono all'estero e che qui potranno trovare accoglienza a prescindere dal colore politico dell'amministrazione regionale. In questi giorni, ha sottolineato invece il presidente del CRAM Antonio Inaurato, le associazioni che si sono tanto impegnate dopo il sisma potranno verificare, dopo quasi dieci anni, a che punto si trova la ricostruzione del capoluogo di regione. E soprattutto avremo tutti insieme la possibilità di ringraziarle per quanto hanno fatto. All'assemblea annuale del CRAM sono intervenuti anche il presidente della giunta regionale Giovanni Lolli, l'assessore Lorenzo Berardinetti e i consiglieri regionali Pietro Smargiassi e Donato Di Matteo.